Benvenuti al modulo dedicato alla teoria del prompting nella generative AI, un'avventura emozionante nel mondo dell'intelligenza artificiale creativa. Che tu sia un appassionato di tecnologia, un curioso del futuro o semplicemente un individuo desideroso di esplorare i confini della creatività umana, sei nel posto giusto. In questo modulo esploderemo il concetto fondamentale dei prompt nell'utilizzo proprio dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Un prompt può essere definito come una breve frase, una domanda o un input testuale che viene fornito a un sistema di intelligenza artificiale per indirizzarlo verso la generazione di contenuti specifici. In sostanza il prompt funge da guida per il modello di intelligenza artificiale fornendogli un contesto o un obiettivo da raggiungere. L'importanza dei prompt nel contesto dell'intelligenza artificiale risiede nella loro capacità di influenzare il processo di generazione di questi modelli e di indirizzare così l'attenzione del modello verso determinati aspetti o stili di output. Attraverso l'uso di prompt adeguati è possibile condizionare l'intelligenza artificiale a produrre risultati coerenti con le aspettative dell'utente, ad esempio generando un testo narrativo con uno specifico tono emotivo o creando immagini che rispettino determinati criteri stilistici. La scelta e la formulazione del prompt rivestero un ruolo cruciale nel prompt engineering perché determinano l'input di partenza che influenzerà l'intero processo creativo dell'intelligenza artificiale. È necessario considerare attentamente la lingua, le strutture grammaticali, le sottigliezze semantiche e le intenzioni comunicative all'interno del prompt stesso. Questo perché una piccola variazione nella formulazione del prompt potrà portare a risultati completamente diversi, mettendo in evidenza l'importanza di una progettazione accurata e mirata dei prompt. Durante questo corso esploderemo approfonditamente le strategie e le tecniche per creare prompt efficaci, tenendo conto dei diversi aspetti della comunicazione con il modello di intelligenza artificiale. Attraverso poi esempi pratici e anche esercizi interattivi impareremo a padroneggiare l'arte del prompt engineering scoprendo come sfruttare al meglio il potenziale delle intelligenze artificiali generative. Vedremo come poter scrivere prompt efficaci che possono indirizzare le intelligenze artificiali generative verso i risultati desiderati e scopriremo insieme come sfruttare le sottigliezze del linguaggio, la semantica, le intenzioni per ottenere risultati realmente sorprendenti. Ed esamineremo anche tecniche avanzate di prompt engineering in modo che tu possa ottenere la massima creatività che i modelli di intelligenza artificiale possono offrire. Ma perché dovresti essere interessato al prompt engineering? Perché questa è la chiave per sbloccare un enorme potenziale creativo e superare i limiti della nostra immaginazione. Con le giuste istruzioni puoi costringere le intelligenze artificiali a produrre opere d'arte, storie coinvolgenti, soluzioni innovative e molto altro ancora. Immagina di poter chiedere a una macchina di generare il tuo racconto preferito, di creare immagini meravigliose o di risolvere complessi problemi scientifici. Con il prompt engineering puoi diventare il regista di un'avventura intellettuale senza precedenti. Quindi preparati a immergerti in questo entusiasmante mondo dei prompt della generative AI. Scopriremo insieme i segreti dietro la creazione di prompt potenti e affascinanti e come guidare le intelligenze artificiali per ottenere risultati sorprendenti e creativi. Sfrutta il potere dei prompt per trasformare le tue idee in realtà e aprire così nuovi orizzonti nella creatività. La tua avventura nel prompt engineering sta per iniziare. Grazie.